Ben rientrati in studio per la pagina sportiva, iniziamo parlando di pallavolo, la futura volle giovani torna in campo nel weekend per cercare di riscattarsi dopo la doppia sconfitta con Marsala e Roma. Al Palla San Luigi arriva Olbia. Non è l'ultima chiamata ma il treno promozione non può più aspettare. La futura volle giovani è pronta a tornare in campo al Palla San Luigi. Uscita sconfitta dal doppio confronto con Marsala e Roma, la squadra di Matteo Lucchini adesso ha l'obbligo di trovare i tre punti per ambire per davvero alle posizioni di alta classifica. La maturazione delle cocche ancora non è arrivata a compimento. Il salto mentale che serve, ancora di più di quello tecnico, è il punto centrale su cui lavorare. Certo è che se la caduta di Roma poteva rientrare perfettamente nei piani contro un avversario degno di una Serie A 1, l'infrasettimanale con Marsala ha segnato non di poco il percorso delle biancorosse. Domenica in anticipo alle ore 15 non si può dunque sbagliare, in un momento difficile non solo sportivamente parlando e con qualche apprensione, visto che proprio l'acqua e sapone Roma, avversario dell'ultimo weekend, si è dovuto fermare a causa di alcune positività riscontrate all'interno del gruppo squadra. Tolti i pensieri Covid, c'è solo il campo ad essere decisivo. Occhio dunque a Olbia, che la settimana scorsa ha regolato in 3-7 la sorprendente Sassuolo e si presenta a Busto con due punti in più in classifica. La formazione sarda è una rosa di grande esperienza, a partire da Jenny Barazza, che ha calcato per 18 anni i campi di Serie A 1 e lì, al centro, sarà battaglia vera, ora o mai più. Parliamo ancora di pallavolo, sorride la Uiba che ieri sera è tornata al successo battendo 3-1 Brescia. Farfalle che stanno finalmente uscendo dal difficile momento delle quattro positività in squadra al Covid-19. E ora un'anticipazione della nuova puntata di Bocce Forum, ospite Riccarda Ambrosi, atleta paralimpica. Ascoltiamola. Una vita sui campi di Bocce. Conosciamo Riccarda Ambrosi, atleta paralimpica, candidata nella lista dell'attuale presidente De Santis alle ormai imminenti elezioni FIB e che ai nostri microfoni racconta il suo grande amore per lo sport e i tanti traguardi raggiunti. Io in realtà mi sono avvicinata fin da piccola perché avevo il mio babbo che giocava a Bocce e faceva le gare, quindi mi ha sempre portato con lui sui campi di gara e mi ha insegnato a giocare a Bocce, quindi ce l'avevo un po' nel DNA questa cosa. E poi in effetti con questa disabilità, questa malattia neurodegenerativa che pian piano diciamo si aggrava, ho fatto altri sport, però poi mi sono resa conto che mi è piaciuto rientrare nel mondo delle Bocce e giocavo in una società di Padova in carrozzina con il classico campo con le Bocce per disabili, però in realtà mi sono resa conto che poi facevo fatica, quindi parlandone con il presidente De Santis che già io conoscevo perché avevamo lavorato insieme per il Comitato Paralimpico dove lui è stato per 33 anni a lavorare, quindi conosce benissimo il mondo della disabilità e mi ha detto perché non provi anche la Boccia Paralimpica, perché in realtà la Boccia Paralimpica dà modo a tutti i tipi di disabilità grave di poter giocare, perché o si gioca da soli, chi ci riesce perché ci sono ovviamente la suddivisione in varie categorie a secondo del tipo di disabilità, oppure le persone che non riescono hanno anche un tecnico a disposizione che gli dà la possibilità di poter giocare. Quindi mi sono avvicinata a questo mondo, conoscevo delle persone a Milano, sono entrata in questa società di superabili di Milano e tuttora il mio allenatore Mauro Perrone che è stato un grandissimo atleta smesso da un anno e due anni fa ho cominciato ad andare avanti e indietro a allenarmi a Milano e l'anno scorso devo dire che con grande gioia nella mia categoria tutti i tornei, i campionati fatti sono insomma arrivata sempre ai primi posti e quindi sono campionessa italiana. Anche con la pagina sportiva abbiamo terminato, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento insieme a Rete55, grazie, arrivederci.